La conferenza su Annibale Maria di Francia tra preghiera, postolato sociale, attività educativa e impegno culturale ci ha introdotti ad una conoscenza più approfondita della personalità di questo grande figlio delle Chiese di Sicilia che sono state rafforzate nella fede con l'eroismo della testimonianza cristiana di tanti santi e beati che sono nati ed hanno portato avanti la loro opera in questo luogo benedetto dal Signore. Mi congratulo insieme con la Madre Generale e le Suore Figlie del Divino Azzero e con i confratelli e i relazionisti mi congratulo con l'Associazione Culturale Antonello da Messina che è attiva qui in Roma da più di 50 anni, come ci è stato detto e promuove attività culturali e religiose della città di Messina e della Sicilia è in questo contesto che con le figlie e i figli spirituali di Santa Anima di Maria di Francia le figlie del Divino Azzero e i rogazionisti e l'arci confraternita Santa Maria Odicidria dei Siciliani in Roma che avete lodevolmente organizzato questa attività allo scopo di fare memoria del patrimonio di fede e di opere con la quale l'umanità è stata arricchita da personalità della Sicilia che sono come dei fari che illuminano il cammino. Il Papa Giovanni Paolo II, oggi santo, nella Omedia pronunciata il 7 ottobre 1990 per la beatificazione di Padre Annibale, afferma Il fuoco d'amore per il Signore e per gli uomini segnò tutta l'opera di Annibale Maria di Francia Colpito sì dall'adolescenza, dall'espressione evangelica La Messe è molta, ma gli operai sono pochi Pregate dunque il padrone della Messe perché ma gli operai nella sua Messe egli spese tutte le sue energie per questa nobilissima causa La moltitudine di persone non ancora raggiunte dal Vangelo e il numero insufficiente degli evangelizzatori sono stati il tormento del suo cuore di apostolo e di sacerdote Per lui ogni autentica vocazione è frutto della grazia e della preghiera prima ancora delle pur necessarie mediazioni culturali e organizzative Alla preghiera per le vocazioni, come è stato sottolineato dagli interventi di questo poveriggio congiunse un'attenzione concreta ai bisogni spirituali e materiali dei sacerdoti e dei seminaristi Dovunque vi erano necessità a cui bisognavo venire incontro piccoli senza famiglia fanciulle in gravi pericoli monasteri di contemplative in difficoltà materiali fu presente sempre Padre Annibale con tempestività e con amore di tutti fu Padre e benefattore pronto sempre a pagare di persona aiutato e sostenuto dalla grazia Il messaggio che egli ci trasmette è attuale e urgente L'eredità lasciata alle sue figlie e figli spirituali possiamo aggiungere noi ciascuno di noi è impegnativa Quando emerge da queste parole del Santo Papa trova riscontro nelle riflessioni che avete poco fa condiviso sulla personalità di Padre Annibale Guardare a Lui significa per noi recuperare una originalità del presente La bellezza e la grandezza dei sanghi sta nel fatto che sono stati loro stessi nel momento in cui sono vissuti ed hanno operato hanno ben interpretato i segni del loro tempo L'imitazione più alta dei santi e nel nostro caso di Padre Annibale è la loro originalità cioè la loro inimitabilità il messaggio che ci indirizzano questi santi è fate come noi ma non imitateci non imitateci cioè non ripetete quello che avete visto in noi ma a partire da quello che avete visto di noi siate nuovi unici e originali non sradicati nel tempo non vogliamo ripetere oggi tale e quale tutto ciò che ha fatto Santo Annibale no vogliamo ripetere la sua originalità nel leggere i segni dei tempi oggi in questa società in questo nostro contesto guardando Padre Annibale dobbiamo cercare di vivere il presente momento storico come unico e irrepetibile e avere il coraggio di essere noi stessi di ridire in maniera diversa la stessa cosa ciò significa tornare all'essenziale delle cose e alla radice Padre Annibale aveva fissato la sua vita su due pilastri come ci è stato detto Dio e il prossimo tutto si è sviluppato a partire da questo fondamento questo è il messaggio che abbiamo ascoltato nella prima lettura del profeta Issei e del Vangelo di Matteo la preghiera è il punto di partenza che ha animato tutta la vita di Padre Annibale nella sua relazione con Dio e con il prossimo Papa Francesco in un recente incontro con la famiglia derogata in Vaticano lo scorso il 18 settembre dove ci siamo riuniti è stata un'esperienza molto bella ci siamo ritrovati un centinaio di persone insieme la famiglia derogata le figlie del Divino Zelo i rogazionisti le missionari rogazioniste e i laici collaboratori del figlio del Divino Zelo e dei rogazionisti e il Papa ha sottolineato che la preghiera ecco le sue parole è il filo rosso che attraversa tutta la vita di Sant'Annibale questa è stata la sua esperienza ma vale per tutti senza preghiera non si sta in piedi e non si sa dove andare è importante dunque che ci sia un dialogo prolungato con il Signore ogni giorno e poi un'invocazione a Lui prima di ogni momento importante di ogni incontro di ogni decisione e questo è molto importante perché tante volte noi ci lasciamo sopraffare dalle paure ci sentiamo depressi non sappiamo che cosa fare i problemi sono troppo grossi e impellenti e non sappiamo come rispondere e qui il Santo Padre ci dice chiedete l'aiuto dello Spirito chiedete l'aiuto del Signore in ogni momento che Lui sicuramente ecco se noi bussiamo ci ha terminato se cerchiamo troveremo se busseremo ci sarà a vento voglio rinnovarvi l'invito ad essere gli specialisti di Dio che ci era stato rivolto da Paolo VI nel 1968 di essere gli specialisti di Dio nelle arti della preghiera e della carità mani giunte dinanzi a Dio e mani tese aperte verso i fratelli e le sorelle molto bella questa espressione mani giunte nei confronti del Signore abbiamo tanto bisogno ma mani sempre aperte verso il nostro prossimo e penso che è stata questa la vita di Santa Gnibale di Madre Nazarena e di tanti figli e figli spirituali mani giunte e mani tese così si diventa specialisti di Dio questa è la vostra missione mani giunte non incollate queste sono le parole di Papa Francesco che ci ha indirizzato queste parole ci indicano chiaramente il cammino tracciato da Santa Gnibale Maria di Franci che vogliamo continuare a percorrere oggi siamo qui per rivolgere il nostro sguardo ed esprimere la nostra gratitudine a Santa Gnibale degno e grande figlio di Messina e della Sicilia nella certezza di essere in comunione con una persona viva che ci è familiare e che la Chiesa ha dittato come santo e modello di vita siamo siamo certi che Egli dal Cielo intercede per noi congratulazioni a tutti voi e in particolare i membri tutti dell'Associazione Culturale a Torrello da Messina per il vostro impegno e per tutte le vostre iniziative che sicuramente danno un contributo significativo per una società e una Chiesa migliore ci accompagnino la Vergine Maria dell'Odigitria e tutti i sangi e beati della Sicilia Amen